Buonasera a tutti quanti, benvenuti nella vigna di Mirko Mariotti, la sorella che è il banco dove avete assaggiato i vini e credo anche degustato qualche fetta di salame, formaggio, un solito di prodotti tipici del territorio. Poi io sono Mauro Spadoni che sono il cuoco della festa, della Sagra, di Sapori da Mare. Sono due anni che facciamo questa iniziativa, questa è la prima volta che abbiamo voluto fare questo esperimento di questa serata in vigna. Dietro di me ci sono i ragazzi che stanno suonando, che adesso continueranno poi a suonare, ci fermeranno solamente un attimo quando faremo la degustazione del risotto, chi invece vorrà sentire come va fatto il risotto si vicina e ascolta mentre loro faranno una musica di sottofondo. Il gruppo barioca, dico gruppo perché una volta erano in tre, era il trio, adesso sono in quattro, non so come dire. In famiglia crescono. Mi hanno detto che la volta scorsa erano uno in recluto nel fiume perché abbiamo fatto un bel giro in barca e ci hanno accompagnato da Miglianino fino a Ferrara con loro musica e ci hanno divertiti moltissimo. Bene, allora come dicevo, loro adesso continueranno a suonare, io vi farò a chi è interessato a vedere un risotto, il risotto a un fortane, il fortane è un vino tipico del nostro territorio, è un vino che Mariotti produce nella sua vigna, è un vino delle sabbie e anzi prima di iniziare vorrei che Mirko ci raccontasse qualcosa di questo vino e di questo vino.